Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, bentornati alla nostra serie Imperatores in cui cerchiamo di raccontare la storia dell'impero romano attraverso le sue figure più note, cioè gli imperatori. Beh, in realtà in queste ultime puntate proprio parlare di figure note mi sembra un po' esagerato perché stiamo raccontando la storia di imperatori che si susseguono molto rapidamente, dei famosi imperatori della crisi del III secolo e che devo essere sincero, credo che alla maggior parte delle persone siano assolutamente poco, se non per niente noti. In realtà l'imperatore di cui parleremo oggi è famoso un po' più degli altri, principalmente per due motivi. Il primo per il suo soprannome e la sua origine, si chiamava infatti Filippo l'Arabo perché era proprio di origine araba, vedremo tra poco che cosa questo voglia dire. Il secondo motivo è che Filippo l'Arabo, per fortuna più che per merito diciamolo chiaramente, si trovò a regnare durante il millennio dalla fondazione di Roma. Sapete che, secondo la tradizione, Roma sarebbe stata fondata nel 753 a.C., bene, esattamente mille anni più tardi, Filippo l'Arabo si trovò a regnare. E dato che si regnava in un periodo di grande confusione all'interno dello Stato, per motivi politici e militari, non gli sembrò di poter fare niente di meglio che festeggiare l'eternità di Roma. In effetti, una città che esisteva da mille anni e che in quei mille anni era passata da essere un piccolo borgo, un piccolo mucchio di capanne, secondo la tradizione, a dominare praticamente tutto il Mediterraneo, meritava di essere ricordata. C'è solo questo su Filippo l'Arabo? No, e tra poco lo vedremo. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, sigla e partiamo a raccontare. Marco Giulio Filippo Filippo, nato nel 204, nell'allora città di Tracontis, che attualmente si trova nella parte meridionale della Siria. Perché era detto l'Arabo? Per due motivi. Innanzitutto perché all'epoca, ovviamente, quella città non faceva parte della Siria, ma faceva parte della provincia d'Arabia, ovviamente una provincia romana che vedete qui a fianco e che in realtà non ha praticamente nulla a che fare con l'Arabia, così come la pensiamo oggi, tantomeno l'Arabia Saudita. Inoltre, Filippo era sì figlio di tal Giulio Marino, che era romano, o comunque era cittadino romano, questo è quello che sappiamo, ma secondo la tradizione aveva proprio un'origine araba. Addirittura si racconta che il nonno fosse un predone arabo, che si era spinto, aveva fatto fortuna, si era poi spinto all'interno dell'impero romano e qui si era stanziato con il padre, che era diventato cittadino romano. In realtà di lui e della sua gioventù non sappiamo praticamente nulla, ma anche perché è uno di quegli imperatori su cui purtroppo le fonti sono molto scarse, spesso molto successive, e come tra poco vedremo, sono più che altro concentrate sul suo rapporto col cristianesimo. Perché, come inizieremo a vedere in molti imperatori che narreremo da qui in poi, le fonti del tardo impero, subito dopo la fine dell'impero romano, essendo fonti principalmente cristiane, si concentrano molto proprio sul rapporto tra l'imperatore e il cristianesimo. piuttosto che raccontarci qualcosa di più della sua vita, delle sue magagne, insomma quello che piace un po' a noi, e che fino adesso gli autori ci avevano abituato a raccontare. Ad ogni modo, qualcosina della sua giovinezza in realtà lo sappiamo, e quel qualcosina è che verosimilmente suo fratello, fu tramite il fratello che si chiamava Prisco, che riuscì a scalare il cursus honorum, e lo fece grazie ai rapporti di Prisco con Timositeo. Vi ricordate nella puntata scorsa, Timositeo era il suocero di Gordiano III, cioè l'imperatore che precedette Filippo l'Arabo, era il suo prefetto del pretorio, uno dei due prefetti del pretorio, l'altro appunto era Prisco, il fratello di Filippo, ed era colui che aveva guidato il giovane imperatore durante, da solito, oltre aver guidato ovviamente la figlia in sposa. Era stato proprio Timositeo che probabilmente aveva portato Prisco, il fratello di Filippo, a diventare insieme a lui prefetto del pretorio, e sempre tramite questo potere, Filippo aveva iniziato a gravitare nell'orbita intorno all'imperatore. Che cosa ci faceva un provinciale, o meglio due provinciali, intorno a un imperatore? Beh, era un'epoca complessa, credo che abbia mai capito da tutte queste puntate. Gli imperatori dovevano sì guardare alla romanità di chi li circondava, ma dovevano soprattutto guardare alle loro capacità e, ancora più importante, alla loro fedeltà. Quindi era molto meglio a volte portarsi vicino degli uomini nuovi, chiamiamoli così, provenienti dalle province, che dovevano tutto il loro potere all'imperatore, che quindi magari erano a lui più fedeli, piuttosto che un nobile patrizio romano, che alla prima oncia di potere che gli si dava, avrebbe potuto magari ribellarsi e scatenare una nuova guerra civile. Le cose però, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, non andarono così bene a Gordiano III. Siamo nel 243 d.C. Gordiano era impegnato in una campagna, una campagna in Oriente contro i Sasanidi, una campagna che nella sua prima fase era stata guidata proprio da Timositeo, il quale aveva guidato le armate romane ad una serie di vittorie, ma poi era morto. Secondo alcuni autori, già la morte di Timositeo sarebbe da imputare a Filippo, che l'avrebbe organizzata proprio per permettere a se stesso e al fratello di prendere il controllo del giovane imperatore. Su questo non abbiamo nessuna prova, ma io intanto ve la lascio perché qualche autore la cita. Una volta che Timositeo fu morto, ovviamente, Prisco divenne il tutore a tutti gli effetti dell'imperatore, che in realtà aveva già raggiunto la maggior età, ma che anche negli ultimi anni, quando era più grande, aveva sempre lasciato che fossero altri a governare per lui. Una volta che Prisco fu così vicino all'imperatore, la prima cosa che fece fu di chiamare Filippo ad affiancarlo, sostituendo Timositeo come nuovo prefetto del pretorio insieme a lui. In questo modo, i due fratelli si trovarono a tutti gli effetti a controllare Gordiano. L'anno successivo, nel 244 d.C., Gordiano intraprese una nuova campagna contro i Sasanidi. Le sue truppe erano tornate in Siria, qui si erano rifocillate, ma la guerra in Mesopotamia continuava, e per questo Gordiano, spinto probabilmente anche dalle truppe, che non erano così contenti di avere un imperatore poco soldato, poco avvezzo al comando, decise Gordiano di riprendere la campagna e tornare in Oriente. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, qui però trovò la morte, nella battaglia di Mesiche, una battaglia che probabilmente fu una sconfitta romana, anche se non una sconfitta così disastrosa, in qualche modo l'esercito si salvò, ma una battaglia che in un modo o nell'altro sancirà la morte di Gordiano III. Anche qui, le fonti sono molto discordi. Partiamo dalla fonte più neutrale di tutte, forse, cioè proprio i Sasanidi. Abbiamo un'iscrizione Sasanide che racconta di come il loro sovrano fosse riuscito a sconfiggere i Romani, uccidere Gordiano, viene proprio detto che muore in battaglia, e dopo la morte Gordiano fosse stato sostituito da un tal Filippo, appunto il nostro Filippo l'Arabo. Gli autori romani però non sono così convinti di questa versione. È vero che, come vi ho detto, gli autori romani erano molto spesso vicino al Senato e quindi forse non guardavano con particolare apprezzamento a Filippo. Secondo la maggior parte degli autori romani, infatti, Gordiano non sarebbe morto direttamente in battaglia, ma o sarebbe morto nei giorni successivi per una ferita, forse subita cadendo da cavallo, ferita che poi si era infettata, che poi aveva portato alla morte. Secondo altri, invece sarebbe stato fatto uccidere proprio da Filippo, il quale avrebbe sobillato le truppe a ribellarsi contro quell'imperatore che le aveva portato alla sconfitta e le avrebbe spinte ad ucciderlo. Addirittura, secondo alcuni autori, Filippo avrebbe addirittura organizzato una serie di errori nella catena di rifornimenti per affamare gli uomini e spingerli a ribellarli, a ribellarsi contro l'imperatore. Tutto questo è vero? Non lo sappiamo. Lo sapete che agli autori romani piace ogni tanto abbellire la loro storia. Totta sta che in effetti Gordiano III morì e Filippo l'arabo venne elevato dalle truppe, una cosa che come vedremo diventerà comunissima da qui in poi per gli imperatori, sarà elevato dalle truppe come nuovo imperatore. Filippo si trovò quindi ad essere nella stessa situazione in cui si era trovato un imperatore poco prima di lui e quell'imperatore era Massimino il Trace, un uomo proveniente dalle province che non aveva nulla a che fare con Roma, che non aveva probabilmente neanche un grammo, un decilitro di sangue romano, praticamente sconosciuto a Roma o comunque poco conosciuto, elevato dalle truppe. Filippo probabilmente non era uno stolto e capì che la cosa migliore era evitare l'errore di Massimo e quindi invece di rimanere nelle province e continuare quella guerra che stava combattendo decise di tornare indietro. Per poter finire quella guerra accettò un trattato di pace, un trattato di pace con i Sasanidi che fu in effetti una chiara sconfitta romana. Perché i romani che erano partiti per ricacciare indietro i Sasanidi furono costretti ad accettare che una parte della Mesopotamia e praticamente tutta l'Armenia passasse ai loro avversari. I Sasanidi ci aggiungono che i romani pagarono un grosso tributo in denaro, dissero che sarebbero stati tributari i Sasanidi anche negli anni successivi, questo le fonti latine non ce lo dicono, ma in effetti è anche possibile. Una volta risolto il problema in Oriente, Filippo decise di lasciare in zona il fratello Prisco che prenderà il comando delle truppe rimaste in Oriente quindi di una buona parte dell'esercito prenderà il comando di tutta la zona orientale ovviamente per assicurarsi la fedeltà di quelle truppe. A questo punto Filippo insieme al figlio che aveva solo sette anni e che si chiamava Filippo come lui decise di tornare a Roma perché come vi dicevo prima si rese conto che se non voleva ripetere lo stesso errore di Massimino doveva tornare a Roma e qui farsi accettare dai senatori. E come fece a farsi accettare dai senatori? Beh, iniziò innanzitutto cercando di comportarsi nella maniera più corretta possibile quello che ci si poteva aspettare da un nuovo imperatore. Innanzitutto cercò di fugare ogni dubbio sul fatto che lui centrasse in qualche modo con la morte di Gordiano tanto che riportò le spoglie a Roma creò un mausoleo in suo nome lo fece addirittura divinizzare quindi Gordiano III divenne un dio e celebrò in suo onore tutta una serie di giochi in quanto cercava in questo modo di mostrarsi vicino al vecchio imperatore. Il secondo passaggio che fece fu quello di cercare di creare una nuova dinastia. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate in questo periodo di forte instabilità in cui probabilmente anche la plebe romana iniziava a percepire che l'impero scricchiolava che tutta questa alternanza di imperatori non è che stesse proprio facendo benissimo all'impero in sé iniziava a circolare l'idea che fosse necessaria una nuova dinastia per poter riprendere la gloria di Roma un po' rifacendosi alle grandi dinastie del passato quella dei Giulio Claudi la dinastia degli imperatori adottivi prendetela come volete che avevano fatto grande Roma. ebbene il nostro il nostro Filippo l'arabo in effetti decise di creare questa nuova dinastia innanzitutto cercò di darsi dei natali un po' più illustri e la prima cosa che fece fu di cercare di divinizzare addirittura il proprio padre Giulio Marino che era morto ma che non era stato né un imperatore né un uomo importante a Roma tanto che si dice che nonostante l'imperatore l'avesse fatto divinizzare il senato si guardò bene da accettare la cosa si poteva accettare chiunque come dio ma in effetti un esimio sconosciuto forse era un po' troppo il secondo passaggio che fece Filippo fu di appunto cercare di creare una dinastia vi ho detto che aveva un figlio che all'epoca aveva solamente sette anni e che sarà proprio nominato suo Cesare quindi suo successore in modo da dare l'idea proprio di una continuità nella famiglia e di un futuro nuovo imperatore tra l'altro tre anni dopo quando avrà dieci anni Filippo che sarebbe stato Filippo II se vogliamo sarà addirittura nominato co-augusto del padre un imperatore decisamente giovane ma non come all'epoca di Marco Aurelio per intenderci in cui c'era un imperatore comunque principale che aveva più cariche rispetto all'altro in particolare era l'unico pontefice massimo no proprio sdoppiando le cariche come ai tempi di Pupieno e Balbino che erano sullo stesso livello quindi facendo due pontefici massimi e così via proprio affiancando completamente a sé il giovane figlio che ovviamente di potere effettivo non ne aveva data l'età e dato il fatto che era sotto il controllo del padre per mantenere questo potere Filippo che molte fonti dell'epoca dicono essere molto ossessionato dalla paura di complotti di essere tradito che qualcuno potesse sollevarsi contro di lui d'altronde probabilmente anche lui aveva preso il potere in maniera usurpandolo a qualcun altro quindi insomma probabilmente un po' di timore che qualcuno potesse farlo con lui c'era ebbene per cercare di evitare tutto questo aveva addirittura sostituito molte delle cariche politiche a Roma e nelle province affidandole a uomini a lui fedeli tra volte addirittura dei parenti come Severiano che secondo alcune fonti è il suocero secondo altre fonti è il genero anche se questo pare strano perché in effetti aveva una figlia femmina ma era piccola quindi era strano che fosse il genero quindi prendiamo più per buono suocero ad ogni modo Severiano il quale fu mandato a comandare le truppe nella zona della Mesia e della Pannonia quindi un luogo in cui vi era una forte concentrazione di truppe perché ovviamente era uno dei luoghi più esposti all'attacco dei barbari non sempre queste scelte si rivelarono però correttissime ad esempio Severiano nel 245 quindi l'anno successivo la presa di potere da parte di Filippo l'arabo si trovò a dover reagire ad un'invasione da parte del popolo dei Carpi che era un popolo quello che dà il nome alla Carpazia per intenderci che era un popolo che viveva nel territorio della cosiddetta Dacia Libera cioè quella parte di Dacia che non era stata occupata dai romani i Carpi attraversarono il confine e invasero le province romane ma Severiano nonostante le truppe di cui aveva a disposizione non riuscì a reagire adeguatamente e i Carpi iniziarono a razziare i territori romani dovette intervenire lo stesso Filippo che con il proprio esercito attraversò i territori di confine e nel passaggio nella parte meridionale della Germania addirittura ricacciò indietro i quadi che a loro volta ne avevano approfittato per entrare nel territorio romano raggiunse i territori della Mesia sconfisse i Carpi e li ricacciò indietro non una vittoria definitiva come tra poco vedremo ma comunque un modo per ricacciare indietro gli avversari a questo punto potè tornare a Roma e celebrare non uno ma due trionfi uno sui Germani e uno proprio sui Carpi uno l'aveva già celebrato quello contro i Sasanidi ma diciamo che su quello forse non erano proprio tutti contenti di come la guerra si fosse chiusa una volta a Roma Filippo come vi dicevo si trovò a dover organizzare forse più ripeto per fortuna per pura casualità temporale i festeggiamenti per i mille anni di Roma e come ci dicono molto chiaramente le monete questi festeggiamenti divennero uno dei punti principali della sua propaganda tanto che iniziò a raccontare a propagare l'idea dell'eternitas di Roma di questa Roma eterna dell'idea di una Roma che non avrebbe mai visto finire il suo dominio avrebbe continuato nei secoli nei secoli e ovviamente sottintendendo il fatto che una parte di quella storia sarebbe stata guidata proprio dalla dinastia che Filippo voleva creare negli anni immediatamente precedenti agli avvenimenti aveva già iniziato a cercare di investire sul ripristino della grandezza di Roma aveva cercato di ripristinare alcune strade aveva lottato contro il brigantaggio che in alcune zone addirittura anche in Italia pensate in Umbria rendeva quelle strade difficoltose da attraversare in modo da tornare a connettere l'impero aveva cercato di rimodulare il censo cercando anche sulla gestione delle tasse in qualche modo di venire incontro ad alcune zone che a causa della pestilenza della pesta Antonina e poi delle guerre civili avevano perso molto del loro potere economico per i festeggiamenti a Roma farà tenere dei giochi grandiosi dei giochi che saranno tenuti nel Colosseo si racconta che fece addirittura arrivare delle bestie direttamente dall'Oriente alcune delle quali erano state catturate proprio durante le campagne di Gordiano III e addirittura arrivò a ripristinare un campo di gara per le naumachie che si trovava nell'Ager Vaticanus che era stato fatto costruire da Traiano che sarà restaurato ripristinato e lì si terranno proprio delle naumachie peraltro tra le ultime di cui sappiamo che in effetti si svolsero in effetti a Roma è possibile che grazie a tutti questi avvenimenti il popolo iniziasse quantomeno in parte ad apprezzarlo anche se così ovviamente non era da parte del Senato che nuovamente si era trovato un imperatore provinciale non proveniente dalle sue file e che quindi molto non lo doveva apprezzare a quanto pare però continuavano a non apprezzarlo molto le truppe tanto che negli anni immediatamente intorno al 247 e 248 ci furono tutta una serie di sollevazioni da parte di truppe provinciali che elessero i loro comandanti come nuovi imperatori ci furono sollevazioni in Germania ci furono sollevazioni in Mesia ci furono sollevazioni in Pannonia dovunque i comandanti venivano eletti dalle loro truppe come nuovi imperatori in realtà questi imperatori usurpatori avevano una vita spesso molto breve si sollevavano ma poi bastava la minaccia da parte delle altre truppe imperiali di arrivare e ripristinare l'ordine perché fossero loro stessi soldati ad eliminarli questo però ovviamente accrebbe la paura di Filippo per quello che poteva capitagli e iniziò ad avvicinarsi sempre di più a uno dei migliori generali romani che però allo stesso tempo sembrava anche essere uno dei più fedeli e che si chiamava Decio secondo quanto si racconta i consegni di Decio in realtà furono inizialmente ben accolti dall'imperatore Decio gli fece notare come non fosse necessaria agire direttamente in maniera militare e in effetti come vi raccontavo aveva ragione la maggior parte degli usurpatori vennero semplicemente eliminati dalle loro stesse truppe e sarà lo stesso Decio a consigliare l'imperatore piuttosto di intervenire economicamente nelle province per cercare di aiutarle c'è una curiosità su queste rivolte tra tutti gli usurpatori ce n'è uno che si sarebbe chiamato Sponziano e che avrebbe preso le armi grossomodo nella zona dell'attuale Transilvania tra le truppe lì presenti di questo di questo usurpatone in realtà sappiamo praticamente niente perché l'unica fonte che ce ne parla sono un gruppo di monete che furono trovate nella zona nel XIX secolo e che peraltro furono utilizzate dalla propaganda locale proprio per tracciare un parallelo tra la Transilvania e Roma o quantomeno una vicinanza c'è un problema probabilmente quelle monete sono false quindi Sponziano in alcuni vecchi libri lo trovate ancora nell'elenco degli usurpatori dell'epoca di Filippo l'Arabo ma secondo gli storici attuali non è mai esistito ed è semplicemente un falso del XIX secolo ve lo lascio come curiosità ad ogni modo tutto quest'uso di denaro da parte di di Filippo l'Arabo ovviamente tese a svuotare le casse dell'impero l'impero non era più quella macchina per creare denaro che poteva assorbire le spese degli imperatori come era una volta aveva un'economia molto instabile molto impoverita perché si era impoverita la popolazione erano diminuiti i commerci c'era stata la peste e così via e ben presto Roma si trovò con le casse vuote a questo punto Filippo decise di tagliare le spese superflue non poteva tagliare le spese per i soldati perché poteva immaginare bene come sarebbe finito e quindi decise di tagliare qualche tributo a cominciare dal tributo che Gordiano III aveva promesso di versare al re dei Goti affinché questi se ne stesse lontano dall'impero quando i Goti non ricevettero più il loro premio a questo punto decisero che dovevano attaccare Roma e nel 248 attraversarono il confine e iniziarono ad attaccare Roma raggiungendo e mettendo sotto assedio la città di Marcianopoli la risposta di Filippo questa volta venne proprio attraverso Decio che venne incaricato di guidare le truppe romane raggiunse i Goti a Marcianopoli dove probabilmente erano rimasti bloccati perché non erano in grado di assediare una città così ben difesa e una volta che li raggiunse riuscì a sconfiggerli non si trattò di una sconfitta definitiva i Goti riuscirono a ritirarsi ma in qualche modo iniziò a far conoscere Decio alle truppe iniziarono ad apprezzarlo come un buon generale come un ottimo comandante e a qualcuno iniziò a venire l'idea che forse sarebbe stato anche un buon imperatore Decio tornò a Roma e ufficialmente diede la vittoria ovviamente all'imperatore come era abitudine fare ma quando nel 249 l'anno successivo un nuovo comandante si sollevò proprio nella zona della Pannonia si chiamava Pancaziano questa volta l'imperatore che temeva che la ribellione potesse propagarsi decise di mandare Decio ad intervenire in realtà ancora una volta quando Decio arrivò laddove c'erano le truppe che si erano ribellate queste avevano già eliminato da sole l'usurpatore forse perché l'avevano incaricato di combattere contro i Goti forse perché temevano proprio l'arrivo di Decio che potesse in qualche modo sconfiggere ma avevano risolto eliminando l'uomo che avevano elevato alla porpora imperiale quando Decio arrivò sul posto però sia le sue truppe sia quelle che erano state di Pancaziano dell'usurpatore decisero di unirsi a lui e furono loro ad elevarlo come nuovo imperatore ora come vedremo nella prossima puntata parlando proprio di Decio su questa situazione ci sono molti dubbi alcune fonti dicono che Decio si trovò imperatore quasi per caso non volendolo altre fonti invece dicono che fu un lavoro di lunga preparazione proprio per riuscire a ottenere quel risultato ma ne parleremo nella prossima puntata secondo alcune fonti Decio una volta divenuto imperatore mandò delle lettere a Filippo rassicurandolo sul fatto che lui non aveva nessuna intenzione di rimanere imperatore e che anzi avrebbe riportato le truppe verso l'Italia semplicemente per giurare ancora una volta fedeltà a Filippo ma Filippo non si fidò così tanto della cosa e come vedremo nella prossima puntata probabilmente fece bene e quindi raccolse le sue truppe che erano più numerose rispetto a quelle di Decio e gli andò incontro per cercare di fermarlo lasciando il figlio Filippo a Roma al sicuro nei pressi di Verona i due eserciti si scontrarono l'esercito di Filippo come vi dicevo era più numeroso decisamente più numeroso ma quello di Decio era fatto da truppe veterane che avevano combattuto a lungo su uno dei fronti più caldi dell'impero in quel periodo appunto la zona al confine con la Dacia nella zona balcanica e quando i due eserciti si scontrarono dopo una lunga battaglia fu proprio quello di Decio ad avere la meglio non si sa che cosa successe esattamente a Filippo secondo alcune versioni fu ucciso in battaglia secondo altre versioni cercò di fuggire ma venne raggiunto dai suoi uomini e venne ucciso si dice dandogli una spadata che gli tagliò la testa a metà fino all'altezza dei denti perché una cosa del genere beh ovviamente per avvicinarsi al nuovo imperatore Filippo era sconfitto la sua testa probabilmente valeva un perdono ufficialmente rimaneva un altro imperatore a Roma cioè il figlio di Filippo Filippo II ma ci rimase pochissimo perché la guardia pretoriana capito come era l'andazzo a sua volta eliminò Filippo II e pose fine a questa nuova dinastia Decio con tutto il suo esercito si avvicinò verso Roma raggiunse la città e sarà nominato dal senato come nuovo imperatore ma di lui parleremo nella prossima puntata prima di chiudere parliamo ovviamente della questione religiosa fino adesso l'abbiamo tenuta da parte anche perché questa questione sarà molto importante con il prossimo imperatore ma con Filippo in realtà non lo è così tanto una serie di autori romani romani cristiani del Tardo Impero insinuarono l'idea che Filippo fosse stato il primo imperatore cristiano ad aver regnato a Roma sì ci sono una serie di leggende che parlano di imperatori cristiani precedenti ma a quelle non credevano neanche chi le scriveva diciamolo chiaramente no qua invece una serie di autori dissero chiaramente che in effetti Filippo sarebbe stato cristiano e addirittura si raccontava che in un'occasione si sarebbe confessato e avrebbe partecipato alla messa di Pasqua in realtà tutto questo pare essere assolutamente stato inventato non ci sono prove della cosa tutt'altro Filippo invece fece cognare molte monete proprio legate al culto dei classici dei romani è molto più probabile che questa leggenda sia nata per due motivi uno perché probabilmente Filippo aveva un'idea religiosa diciamo un po' sincretica avviciniamoci a quella di Elio Gabalo tanto per dare un'idea cioè l'idea che tutti gli dei potessero in qualche modo coesistere e che non ci dovesse essere lotta fra di loro il secondo motivo è che il suo successore Decio sarà un terribile persecutore dei romani dei cristiani come vedremo e probabilmente il rapporto fra i due fa quasi pensare che se non li ha perseguiti era perché Filippo fosse a sua volta cristiano ma ovviamente tutto questo non è in nessun modo provato un'altra leggenda dice che Cristiana fosse la moglie Marcia o Taciglia Severa ma in realtà anche qua esistono delle monete che la ritraggono sotto forma di giunone quindi grosse prove non ci sono noi abbiamo moltissimo di questi tre di questi tre membri della famiglia Filippo il figlio Filippo e Marcia perché una volta che Decio prese il potere la maggior parte delle iscrizioni che riportavano informazioni su di loro o il loro nome fu Abrasa come si fa nelle Damnazio Memorie non è detto scusate il plurale è stato sbagliatissimo nella Damnazio Memoria così mi correggo diciamo che non sono proprio tutti concordi gli storici su questo perché in effetti nessun autore parla di questa Damnazio Memorie potrebbe essere stato un qualcosa di non così ufficiale ma in effetti molte delle iscrizioni che riportano il suo nome sono state Abrase e cancellate nel tempo insomma un imperatore che visse probabilmente tutta la vita nel timore di un'usurpazione che visse tutta la vita nell'idea di creare una dinastia che gli potesse sopravvivere nell'idea che la sua dinastia avrebbe potuto condurre Roma in quella gloria eterna in cui lui l'aveva glorificata quando aveva festeggiato proprio i mille anni di Roma e invece Filippo fu solo uno dei tanti imperatori che si alternarono in questo periodo ma quest'idea questo sogno in qualche modo gli sopravvisse perché vedremo che anche tra i prossimi imperatori molti cercheranno di creare queste nuove dinastie ma lo vedremo ovviamente nelle prossime puntate intanto spero che questa pidola vi sia piaciuta se volete potete riascoltare queste e le altre pidole della serie qui su youtube in descrizione c'è la playlist con tutte le pidole di imperatore se potete ovviamente riascoltarla sul nostro podcast potete contattarmi per proporci nuove pidole scriverle o anche solo dare delle idee potete farlo qua sotto potete farlo sui nostri social facebook instagram telegram sulla mail e ovviamente per il resto vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registra ma è la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una pidola di storia ci vediamo tra due venerdì con la prossima puntata di imperatores e se volete una curiosità mentre giravo questa pidola siete diventati centomila a presto ciao ciao